Cari amici, buonasera, buonasera da un vostro collega. Mi chiamo Mauro Berruto e sono un allenatore delle PGS, delle polisportive genoviglie salesiane. Ho almeno incominciato lì. Ho incominciato lì tanti anni fa, ho incominciato in un oratorio della mia città, che è Torino. Ho incominciato grazie alle PGS e lì la mia carriera di allenatore è incominciata e poi fortunatamente è proseguita con delle belle soddisfazioni che mi hanno portato fino a guidare la nostra nazionale maschile di pallavolo e una medaglia olimpica. Però ecco, questo cerchio che si è un po' completato nella mia vita e che mi ha portato a incominciare in un oratorio e a terminare la mia esperienza alla guida della nostra nazionale, mi piacerebbe riproporvelo in questo inizio di un anno sportivo che sarà complicatissimo, lo sappiamo, forse sarà il più difficile del secondo dopoguerra. Beh, mi piacerebbe che si ragionasse sull'idea di un completamento di un cerchio anche in questo caso, perché certamente avremo dei gravi problemi, delle grandi difficoltà legate per esempio al problema dell'infrastruttura, delle palestre dove fare l'attività sportiva. Beh, riapriamo gli oratori e mettiamo a disposizione quegli spazi da cui tanto è incominciato, tanti di noi hanno incominciato, ma tanto sport nel nostro paese ha incominciato. E poi torniamo anche a chiudere un cerchio con non solo i luoghi, ma anche un po' il modo e la filosofia che le PGS hanno di interpretare lo sport. Ritroviamoci intorno a quei valori di capacità di parlare un linguaggio universale, di essere capaci di trasmettere un messaggio educativo. Lo sport sarà in difficoltà certamente per tante ragioni, anche per ragioni economiche, ma questo è il momento davvero di rilanciare, di non avere timore di essere se stessi e di ritornare a quel punto di partenza forse che è anche un po' il mio. Quindi questo è il mio augurio per una grande stagione sportiva, sarà difficile, sì, ma non ci facciamo spaventare dalle difficoltà, insomma siamo abituati proprio a questo. In bocca al lupo e buon anno sportivo a tutti quanti!